Una svolta importante per il Molise, quella che arriva dalla risposta del ministro Zanonato alla lettera inviata qualche mese fa dall'euro parlamentare Aldo Patriciello. Anche la nostra regione potrà beneficiare delle risorse finanziarie per l'imprenditoria riservate al mezzogiorno. Il ministro dello sviluppo economico ha infatti confermato la tesi dell'eurodeputato molisano, secondo cui il Molise può contare sui fondi del cosiddetto decreto lavoro, quelli stanziati per il periodo 2013-2015. Si parla di 80 milioni di euro che, scrive l'onorevole Patriciello, grazie ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 3 non considererà più solo le regioni del sud rientranti nell'obiettivo convergenza ma prenderà in esame anche le effettive problematiche del Molise. Un passo importante quindi sostiene l'euro parlamentare che dovrà ora essere affiancato da ulteriori iniziative regionali, nazionali ed europee volte al sostegno dell'economia locale, favorendo la creazione di nuove imprenditorialità, dunque di nuove opportunità per i nostri giovani. La svolta arriva nell'ambito dello stanziamento effettuato dal governo che inizialmente escludeva il Molise, situazione sulla quale, afferma ancora l'onorevole Patriciello, ho manifestato ampie perplessità anche perché l'interpretazione restrittiva ai danni della nostra regione avrebbe pregiudicato la sua competitività economica, un ostacolo superato dalla risposta del ministro Zanonato che nella sua nota conferma che a seguito dell'analisi compiuta dai tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico le risorse previste dal richiamato articolo 3 sono effettivamente attribuite a tutte le regioni del Mezzogiorno, dunque anche al Molise.